E noi vediamo insieme i dettagli delle norme del governo per contrastare la violenza contro le donne. Ci aiuta Paola Cervelli che è qui con noi alla touchscreen. Paola? Sì Alessio, 15 articoli per un disegno di legge frutto del lavoro di tre ministeri. Vediamo insieme quali sono le novità a partire, lo dicevi, dalla prevenzione. Vengono rafforzate una serie di misure come il divieto di avvicinamento. La distanza minima dalla vittima viene portata a non meno di 500 metri. Viene rafforzato anche l'impiego del braccialetto elettronico e viene rafforzata anche la misura cautelare dell'ammonimento. In questo disegno di legge il governo poi punta molto anche sui tempi, sulla rapidità di intervento per questo tipo di reati. E dunque un iter preferenziale è più veloce per misure cautelari. Il PM ad esempio valuta senza ritardo e dentro 30 giorni e il giudice a sua volta dovrà decidere se adottare la misura, se disporre la misura senza ritardo e comunque non oltre altri 30 giorni. Misure inoltre saranno volte a favorire la specializzazione dei magistrati proprio su questo tipo di reati di violenza contro le donne. E infine altre novità. Viene introdotto una novità che riguarda l'arresto possibile in flagranza di ferita, ovvero grazie a foto o video che documentino in modo inequivocabile la violenza e comunque non oltre le 48 ore dal fatto. E infine sul fronte dei ristori viene introdotta la possibilità di ottenere un ristoro economico anticipato se la vittima è in stato di bisogno. È tutto a te.